Parliamo di alternative alle slide e la prima domanda è perché? Perché cercare delle alternative? Le slide tutto sommato funzionano e le usano tutti. Questo però non vuol dire che siano l'unica possibilità che noi abbiamo per i nostri supporti visivi. Anzi, a volte possono diventare quasi un ostacolo perché ci costringono ad un formato che potrebbe non essere l'ideale per il nostro messaggio, per il nostro tipo di pubblico. Vale quindi la pena vedere se ci sono alternative e se c'è qualche strumento che possa essere a volte più indicato per il tipo di presentazione che andremo a fare. E vorrei partire rimanendo nell'ambito dei computer del software parlando di un'alternativa ai programmi tradizionali basati sulle slide che si chiama Presi. Presi è un'applicazione nata online ma che si può anche scaricare sul proprio computer che permette di creare dei supporti...